Ciao ragazze, bentornate sul canale e bentornate al mio video sui regali di compleanno perché questa sarà la seconda parte del video e nulla, continuo facendovi vedere i regali molto probabilmente come vi dicevo nel primo video scusate, insomma, ci sarà una terza parte perché comunque ci sono ancora dei regali che devo ricevere che comunque mi hanno detto appunto di dovermi dare però per levare un po' di casino che c'è qui nella mia stanza diciamo, intanto comincio a farvi vedere questo continuo con un regalo già aperto che in realtà mi sono fatta io cioè è un piccolo autoregalo che ho voluto farmi ed è questa borsa di Avon che ho preso dal catalogo Avon questa qui è la borsa in questione e ho voluto farmi questo regalo includendo tra l'altro anche il portafoglio perché quest'anno ho deciso di farmi questo piccolo autoregalo il portafoglio è questo qui ha da un lato lo spazio per le carte e qui ha invece lo spazio per i soldini per i money e questa è invece la borsa che appunto ha questa bella capienza perché è una borsa molto molto capiente e appunto avevo proprio bisogno di una borsa del genere però estiva e quindi questo è un altro regalino con i soldini della nonna di Alfredo mi sono comprata due cosine da zarando sono tornata sul luogo del delitto però solamente una delle due cosine mi è arrivata in realtà ho preso un vestito è un paio di scarpe e mi sono arrivate solo le scarpe quindi quello ve lo farò vedere successivamente le scarpe sono di Even & Ozz che è un altro brand che comunque sto conoscendo su zarando questi sono tutti dei brand low cost ma non troppo e le scarpe arrivano in questa statolina qui con la carta diciamo del brand molto carina e le scarpe sono semplicissime sono queste qui sono delle scarpe semplicissime comunque da tutti i giorni che però ho voluto prendere perché appunto mi mancavano delle scarpe di questo tipo vedete? queste le ho già provate, si vede e sono appunto delle scarpe diciamo da pomeriggio insomma e qui sono gommate mentre qui sono comunque di tela e ho preso appunto queste e poi ho preso appunto questo vestitino che deve ancora arrivare quindi non posso farvelo vedere e poi anche i miei suoceri mi hanno regalato dei soldini e io ho voluto prendere delle cose da Zara Home per completare il set diciamo con la brocca che mi ha regalato Alfredo che vi avevo già fatto vedere nella prima parte dei regali quindi nel video precedente aiuto io ho sempre paura con queste cose che mi piacciono troppo allora da Zara Home ho preso delle cosine appunto della stessa linea della stessa collezione che si chiama Underwater Collection ed è tutto in questa scatola qui sono delle cose che tra l'altro abbiamo scelto io e Alfredo quindi abbiamo scelto appunto insieme ed è bello che ho anche la scatola allora di questa collezione noi abbiamo deciso di prendere due piattini che sono due portadolcetti portabiscottini insomma queste cose così che sono questi qui sono identici in pratica e sono venuti 5,99 l'uno vi dico il prezzo perché li ho acquistati io magari a qualcuno di voi interessa comunque questo è il piattino in questione ha tra l'altro anche questa linea dorata molto molto bella questo è uno della stessa linea ho trovato anche un piccolo centrotavola un piccolo centrino con questo motivo gioco non sbaglio si chiama ok ecco qui questo è il centrino e tra l'altro appunto ha questo decoro che vi faccio vedere sotto sopra questo decoro un po' più piccolino da un lato e un po' più grande dall'altro lato quindi questo qui che mi è piaciuto veramente moltissimo perché è veramente bello e poi ho coordinato alla brocca ovviamente a tutto il resto questi bicchieri qui che sono dei bicchieri ovviamente molto molto estivi quindi sono tutti trasparenti con la linea dorata di sopra e con il corallo di sotto ecco così magari riuscite a vederlo per bene e di questi bicchieri ne ho presi sei quindi per avere un po' la collezione ultimissima cosa che mi stavo scordando di farvi vedere anche se non è un vero e proprio regalo di compleanno però è finito sempre nel regalo di compleanno per diciamo per la questione dei soldini aspettate un attimo sono delle scarpe di questo brand che ho trovato però in giro Fersini sono delle scarpe made in Italy e sono queste scarpe qui bellissime secondo me molto molto belle molto molto comode tra l'altro qui le ho già macchiate non so come pulirle però vabbè l'importante è che di dietro queste scarpe qui e quindi ve le faccio vedere dato che ce le ho qui e sono sembrano comunque scomode ma in realtà sono molto comode queste scarpe e sono appunto made in Italy tra l'altro ecco qui e abbiamo queste scarpe quindi nulla ragazze per adesso è tutto ma vi ripeto ci sarà sicuramente un'altra parte del video una terza parte dei miei regali di compleanno quasi sicuramente quindi io per adesso vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao ciao